detector valerio ciao a tutti i detector valerio qui sotto al primo segnale eccolo qua ma che qualche attrezzo agricolo probabile questo è il primo video del 2020 cominciamo bene un segnale qua sotto proviamo la nuova pala doiker senti come affonda un po' è uscito o adentro quando sta è il chiodo no è impossibile che è il chiodo aspettate non stare più qua avanti con una para piccola è molto difficile scavare se nasconde sto segnale aspettate che sto per video eccolo qua è uscito un bossolo non sparato e al prossimo buca già fatta eccolo qua sotto un altro bossolo non sparato e due e al prossimo qua è fatta a buca vediamo un po' non so riesco a trovarlo porcheria ok nel prossimo un'altra buca fatta e mi è sbucato terzo bossolo non sparato non sparato ottimo qui una volta c'era una mitraglia che sparava qui in cielo ai tedeschi ora quanti non trovai già sono tre non sparati li nascondevano qua dentro con buco che la mitraglia sparavano tatatatatatam e al prossimo qui sotto un altro segnale vediamo un po' se è uscito aspettate vi piacciono questi video che non si muove troppo la fotocamera anzi il telefono ancora sotto guardiamo un po' la buca proviamo adesso a vedere aspettate un po' un po' il tutto no Qua cosa di duro. Guarda che è una porcheria. Eccola qua. Una porcheria là sotto c'è. Sta bella incastrata, non riesco a toglierla. Ecco qua. Madonna santa. Vedi che bossolo. Vedi che proiettile è storto. Madonna. Un altro non sparato. Eh, dietro non se leggi. Guarda che è una bella pulita. Ok. Eccomi qua. Ho fatto la buga. Vi ho trovato. Monetina monetina. Nel 2020. Venti. Boom. 5 lire. Del 55. Ottimo. Ok. Finisco qua il video. Aspettate. Si vanno a me casca. Vi aspetto. E al prossimo video. Ciao. Belli. Iscrivetevi al canale. Al prossimo video. Grazie a tutti.